Noi facciamo una partita a camperina, sentiamo qua, miriamo lì, sentiamo qua, più dove non esce nessuno, tipo lì, dopo aspettiamo, qui arrivi un altro, già facciamo qua tutta la partita. Ciao raga, benvenuti in questo nuovo episodio dove andremo a sbloccare altre 4 mimetiche oro per un fucile da cecchino, un fucile d'assalto e due metragliette. Vi suggerisco di andare a vedere gli scorsi episodi in maniera tale da poter creare una sequenza di video appunto e di capire meglio quello che sta succedendo. Vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina perché nei prossimi giorni uscirà un video molto importante di questa serie dove andremo a sbloccare la mimetica platino per la prima categoria di armi, ovvero gli shotgun. Vi chiedo inoltre di lasciare un commento e un like al video per supportarmi. Non vi rubo altro tempo e vi lascio al video. Bella! E anche questa volta qui non so perché cosa sia successo, l'assalto l'ho già portato ad oro e per queste ci mancano le solite serie di 3 kill senza morire. Magari della prossima volta cercherò di cambiare appunto sfida e poi la sfida finale me lo farò da solo. E anche per queste armi qua quindi cecchino una serie da 3 kill. Per il prossimo episodio sto già portando avanti questo il Bryson 800 shotgun quindi nel prossimo episodio andremo appunto a completare solamente questa classe sbloccando poi la platino per i 4 shotgun. Sarà un video un pochino più lungo però dovremmo riuscire a farcela. Detto questo andiamo a sbloccare questi oro. Scusate se ci ho messo più del previsto a caricare un nuovo episodio però sono stato molto lento ad andare avanti diciamo con lo sblocco delle mimetiche quindi ci ho messo un po' di più ma recuperiamo subito. Allora dai 3 serie di kill. Ho visto che da quando ho rimesso shipment è molto più difficile giocarci non ho capito il perché. Ma non la vuole c'è gente. Aviamoci dal cazzo. Ok. Perfetto. Dovremmo aver sbloccato la oro. Quindi? Ok ci siamo. Siamo a posto. Pernamoriamo cambiamo classe. Passiamo la 2. Probabilmente ne avevamo 2 da fare. Ah c'ho il cecchino qua. Cazzo. La facciamo prima a questa. Andiamo 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 andiamo. 2. Andiamo al terzo. Ok. Terzo è arrivato? Assolutamente no. Dai cazzo. Ok è andato qua. Arrivo qui. Ok a posto. Ok è sbloccata. 1. Merda. Let's go baby! Woo! 3. Dai su. E' palo in. La mia patongue. E' come la tua patongue. Muori. Oh cro- Vai. Crepa. Chiaro? Mi confiscono. Mi confiscono. Andiamo a guardare. E' come la tua patongue. E' come la tua patongue. Mi confiscono. E' come la tua patongue. E' come la tua patongue. E' come la tua patongue. muori ecco i stai zitto ecco i ma che ho silenzio sotto il bocchino silenzio tira wow acucce ocro no 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 ah no boy facciamo la partita camperina ora ci mettiamo qua e miriamo lì ci mettiamo qua qui non esce nessuno tipo lì dopo aspettiamo che arrivi un altro facciamo qua tutta la partita acuccia ocro acuccia cazzo ne vaffanculo a in a e che tr